Ferito da un colpo d'arma da fuoco sabato, in circostanze non chiare, il presidente della Mauritania, Mohamed Uld Abdelaziz, si è rivolto alla popolazione dal suo letto d'ospedale a Nwakshot. Il capo dello Stato ha assicurato che l'intervento al braccio cui è stato sottoposto è andato bene. L'ex generale 55enne, giunto al potere con un golpe nel 2008 e poi confermato alla più alta carica del paese con un voto l'anno successivo, è stato poi trasferito a Parigi per essere sottoposto a ulteriori cure. Secondo quanto è stato dichiarato ufficialmente, Aziz sarebbe rimasto vittima di un colpo partito accidentalmente dall'arma di un membro di una pattuglia militare. L'organizzazione di Al-Qaeda nel Maghreb islamico lo minaccia da tempo di morte.